Nel quartiere pesarese di Pantano prende corpo il progetto di riconversione di un'area in progressivo degrado già prevista a destinazione commerciale artigianale in un nuovo supermercato della catena Eurospin. Quello che sulla carta dovrebbe nascere fra via Trometta, via Pantano e via Carrara. Già dovrebbe perché il condizionale sta prendendo piede sull'onda di proteste di residenti, associazioni di categoria e anche degli stessi candidati sindaci che si schierano contro altra cementificazione. Sul tema è intervenuto anche il direttore di Commercio Marche Nord, Amerigo Varotti. È comprensibile l'iniziativa del privato che vuole edificare o quantomeno ristrutturare un fabbricato già a destinazione commerciale e quindi che vuole fare del business, questo è comprensibile. È altrettanto comprensibile però sia la protesta dei residenti, la protesta delle associazioni di categoria e anche la volontà al momento espressa da parte dei candidati sindaco di Pesaro di non consentire la realizzazione del nuovo supermercato. C'è una follia da questo punto di vista, negli ultimi dieci anni Pesaro è stata accerchiata dalla grande distribuzione, grandi magazzini, cappannoni, è stato costruito invece che sul costruito è stato cementificato a tanti spazi verdi della città e questo ha comportato la desertificazione di molti quartieri, lo stesso centro storico, la chiusura di tante attività commerciali, un appesantimento del traffico e poi è incomprensibile la realizzazione di un nuovo supermercato in quella zona che è già piena di supermercati, ce ne sono circa 7-8 adesso non ricordo bene, nel giro di un chilometro, quindi dal punto di vista commerciale è un assurdo, dal punto di vista della vivibilità del quartiere è penalizzante per i residenti e con un appesantimento del traffico che non è giustificato. La proliferazione della grande distribuzione, dei grandi magazzini nella città di Pesaro ha poi comportato anche il depauperamento, la desertificazione delle attività commerciali nei borghi vicini, nei paesi vicini, creando un forte polo di attrazione che ha comportato in molti casi proprio la sparizione dell'attività commerciale nei paesi. Allora questa follia urbanistica va fermata.